Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo V-log Allora dunque le novità Intanto come avete visto sto facendo la serie di One Piece One Piece o Rubber Cappello di Paglia Insomma lo conoscete tutti, il cartone, anche il gioco immagino Sta avendo leggermente meno successo dei giochi retro tipo Hercules e Tazzo Non capisco come mai, comunque a me piace finire la serie Sicuramente ne farò un'altra come prima di ottobre Perché ottobre sapete già ci sono due in programma Con la Playstation 4 si spera Ovvero WWE 2K16 e Assassin's Creed quello nuovo Sicuro e WWE 2K16 Assassin's Creed non ne sono ancora sicuro Devo valutare prima il gioco Detto questo ragazzi allora Intanto volevo ringraziare tutti Quelli che continuano a sostenere, a seguire Io spero che condividete spesso i miei video Perché ci tengo a far diretti sempre più gente Spero di diventare un canale abbastanza grande Anche se ora mi sono un po' fermato con gli iscritti Che altro dire? Allora io so che ho smesso le sponsorizzazioni Di questo vi chiedo scusa ma non ho avuto molto tempo Al prima possibile riprenderò le sponsorizzazioni Ovviamente chi vuole essere sponsorizzato O scriva qua sotto mi sponsorizzi Oppure va nell'ultimo video delle sponsorizzazioni E scriva lì mi sponsorizzi Io guarderò il canale, lo sponsorizzerò Se è un canale attivo sarà ovviamente nella mia descrizione Se non è un canale attivo non sarà nella mia descrizione Ecco Perché come voi ben sapete i canali molto attivi sono nella mia descrizione Che vi prego di leggere qui sotto Qui sotto dove c'è scritto sotto il video Leggete attenzione Ecco c'è i miei Windows rompe Dicevo ci sono i miei contatti su Facebook La mia partnership Con Freedom Se vi volete iscrivere Io ancora non c'ho po' neanche niente Perché ho poche visualizzazioni Che altro vi posso dire? Allora il forum Io ho creato anche un forum Dove nessuno A parte Axel che ringrazio Posta Quindi complimenti A chi mi chiedeva sempre Mi diceva sempre Di aprire Che non vedevano l'ora di aprire questo forum Che si sarebbero iscritti E quant'altro Non posta nessuno su quel forum Quindi grazie a tutti E che dire Per oggi è tutto Spero che questo video vi sia stato abbastanza chiaro Iscrivetevi al mio canale Scrivetevi qua sotto nei commenti Ciò che ne pensate di questo brevissimo video Alla prossima Ciao E come sempre Grazie anche per il forum